Musica Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di AdventureCraft Allora, nella questa puntata abbiamo fatto un paio di cose E mi avete detto che dovrei avere un po' di pelle qua Eh si, ce l'avevo un po' di pelle qua, ma sono soltanto due A me ne servono molto di più Anzi, vediamo un po', vediamo No, non abbiamo per niente mucca qua vicino E qua non abbiamo altro, vero? Eh, questa cosa Vediamo un po' Niente, niente, niente Vabbè, dettagli, dai dettagli Allora, devo riparare un attimo la mia armatura Quindi prendiamo un po' di diamanti Ok, prima di andare avanti 1, 2, 3 E mi servirà anche un pezzo di ferro se per questo Eh, solo un pezzo per ora Aspettiamo anche due pezzi, va Se ce la facciamo Ok, andiamo qua Cosa facciamo? Qua, uno di questo e questo Ok, tipo, se ne andranno tutta il costo probabilmente Della riparazione E non ce la faccio Porca vacca Eh, qua sono tutti riparati del... Cioè, qua sono tutti riparati del tutto Quindi non ci serve, in effetti, ripararli Eh, due ferri Dove sono i miei pantaloni? Guarda le mie pants Pants, pants, pants Che pants significa? Non significa proprio pantaloni? Oh, oh, oh Allora, dove vieni? Vabbè Devo chiudere un attimo con la porta, ragazzi Perché arriva la gente strana Ah, merda Uno poi ce la faccio? No, nemmeno quello Aia Oh, oh, oh Esperienza? Allora, vediamo un po' Abbiamo un po' di pantaloni più fighi, per esempio Cosa abbiamo qua? Un po' di roba abbiamo Vediamo un po' Eh... No, pantaloni non ce li abbiamo, sinceramente A sto punto io riparerei questi Vedremo un po' se trovo qualcosa di interessante Vediamo un po' Ok Perfetto E li enchanterei Allora, vediamo un attimo Lasciamo queste cose Perfetto Enchanting table Dove l'ho messo, ragazzi? Enchanting table Eccolo qua Perfetto Vediamo un po' cosa mi esce Sei Penso sia il massimo Probabilmente Vabbè, andiamo Ah, project free Ma sì, sì, dai, non è male Ok A posto Andiamo più o meno Un'ottima cosa qua Buttiamoci questo Facciamo in questo modo E pa-bam Andiamo Più avanti che possiamo Allora Abbiamo detto che Dovevamo completare Quella cosa Un nuovo piccone, in effetti Vero? Ho sbaglio Dovevamo completarlo Però prima Dovevamo lasciare un paio di robe Allora, lasciamo per esempio Questa roba di tutto Questa, questa E Queste altre cose Queste non mi servono sicuramente La spalla è una porta presa Perché potrebbe essere utile in futuro, eh Riteniamocela E anche un bel po' di torce Quanto covalo? Eh, un bel po' Così era un'aquila? Maybe Maybe Ok, ragazzi Allora, torniamo un attimo Al dungeon E pausa Perfetto Qua ci eravamo fermati E dobbiamo uccidere L'archean guardian Perfetto Fin qui ci eravamo arrivati Tutti qua Ottimo L'archean guardian Non sapevamo dov'è Sicuramente Quindi Qua è vuoto Qua è vuoto Qua pure E qua secondo me C'è qualcosa di brutto Oh, si è aperto tutto Si è aperto Non c'è nulla Non c'è nulla C'è una chest Con tanta roba qua Oh, bella Mmm Dei spell parchment Per qualcosa di bello E anche un bel po' di roba Niente Niente Qua Neppure Forse un po' di torce Potevo prenderne Niente qua Niente là Ok, non c'è nulla C'è tanto una chest Oh, cavolo Aia Ok Bam E uccidiamo questo Abbiamo fatto sharpness qui sopra Intanto noi abbiamo anche L'altra cosa che era migliore La spada Però adesso possiamo contentarci di questa Penso Ok Un parkour Presumo Vediamo un po' Che stasera di qua Prima Oh Buono Cibo go go Ragazzi Cibo go go Ci mancava in effetti Un po' di cibo Ok Andiamo a fare quel parkour Vediamo un po' Cosa riusciamo a trovare Sto Sto Archenguardian È un po' lontano In effetti Ok Molto semplice Come parkour Un parkour Molto basilare In effetti Ok Ok Oh merda L'ho beccato ragazzi L'ho beccato Pian piano lo becchiamo Aia Aia Oh merda Dov'è andato Dov'è andato Ok ragazzi Devo beccarlo Dov'è Andato Da qua forse Ah eccolo là Aia Porca vacca Mi sa Non lo possiamo colpire Ragazzi Se ci vedete Perché scappa Com'è un enderman Più o meno Andato Forse Da capo lì sopra Ma che poi Non dobbiamo ucciderlo Per forza Basta che ci lasci La roba Però dobbiamo ucciderlo In effetti Se no Troppo Troppo facile Non deve scappare Ragazzi Aia Perché mi faccio Mi colpisco da solo No ok Ora non funzionano Devo un attimo Colpirlo In questo modo Aia Mi colpisce Ben qua Stronzo Perché non riesco A colpirlo Con la spada Da dietro Devo colpirlo E come faccio Darnato Ma Oh Lo stai Bello Vabbè Mentre tu scappi Nel mentre Io Sai cosa faccio Recupero tutto Recupero Grazie Quanto Quanta roba Ragazzi Quanta roba No Abbiamo anche Score of escape Uh bubble gun Ottimo E non posso Prendere questo qua Ragazzi Porca vacca Ma che In te Ci stava In effetti Eh possiamo fare Qualcosa di Badonna mia Quanta roba No Madonna ragazzi Quanto Uh Cos'è Cosa Questa 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 Ah Benovartropos Vediamo un po' Di qua Uh Quanta Bella roba Che c'è Enchantica Go Go Proyect Madonna Madonna Che bello Quanta Bella roba Ok Allora Eh Visto Che abbiamo Un bel po' Di roba Qua c'è un diamante Eppure Non lo posso Prendere Vero No Sì che posso Prendere Perché Toria Fino Iron Level Cavolo Fino a Iron Level Non c'è Altro Allora Ragazzi Prendiamo un attimo A casa Tra l'altro Infatti Il tizio Non scappa Presumo Aia Ci facciamo Un attimo Uno di questo Due posso Farne addirittura Uno E Due Ok Cosa facciamo Cosa facciamo Lasciamo Tutto il ferro Per ora Ok Vamo Quanta roba Quanta bella roba Perfetto E ci facciamo Un attimo Due zennetti Veloci Mettiamo tutta la roba Qui dentro Ok E ci teniamo anche Un altro zennetto Qua in caso Possa servire Ok Guarda quanta roba abbiamo Wow Tanta tanta roba Ok Ottimo Torniamo un attimo Al dungeon Dov'è la pausa Giusto Sì pausa Ok E andiamo a vedere Dove sta anche quel tizio Perché è scomparso Sicuramente È scomparso del tutto Ragazzi Sono fatti un po' male Sti dungeon Perché scappano i nemici Ogni tanto Poi dove è andato Boh Vabbè Non lo so Comunque io mi fattro tutto Prima Perché non si sa mai Potrebbe essere utile Far qualcosa Magari però Non distruggiamo tutto Comunque più o meno Ci arriviamo lì sopra Perché Non è così tanto semplice Vabbè Io sono Tipo Negato Per il parkour Probabilmente Ok Vediamo un po' Un iron helmet Roba abbastanza utile Roba abbastanza utile Anche questa Niente 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 Tipo saccheggiato da tutto Qua C'è tipo Bomb Quanta roba bella c'è Dovrei fare qualcosa Per disinchantare Questi cosi Uh Questi sono belli Eh il fire per esempio Molto buono Ok E tipo Riesco a mettere Poca roba qui dentro Ok Mettiamo tutta questa roba Qui dentro Però Poi dobbiamo svuotare tutto Eh mi raccomando Che sennò poi Mi riempio l'inventario E so che non lo svuoterò mai più Ok Dovrebbe essere rimasta Giusto poca roba ancora Ok Perfetto Più o meno Bella roba Bella roba qua dentro Mettiamo un attimo questa E E basta Basta Ok Questi Due Cosi possono essere utili Fire protection Mi potrebbe essere utile E di tutto ragazzi Voglio recuperare un attimo Questa fire Sharm Fire wind Ok Possono essere utili in futuro Quindi teniamocene Ok Vediamo un attimo Questo tizio dove è andato Qua comunque c'è qualcosa di strano Eh tipo No Semplicemente era Una cosa normale Penso Ok Dov'è il tizio Dov'è andato il tizio Me lo chiedo davvero Perché Abbiamo tra Un creeper E' sponato un creeper Al caso Ahia Ah qua c'è una porta Ah ok Semplicemente la porta Dove qui sono venuto Ok Eh niente ragazzi Non so sicuramente Dov'è andato quel codo Ah ho finito le frecce Guardate qua Bam Ok potete prendere in teoria Anche questa Questa è più figa Però vedete che mi toglie Il cibo Eh ragazzi Non so dove è andato Sicuramente Boh è scomparso Così all'improvviso Sto boss Sì è un posto Da qui sotto Boh Ah qui c'è qualcosa di bello Quel co Boh vabbè ragazzi Non lo so Sicuramente dove è andato Quindi Boh Bella domanda Quando torniamo un attimo giù Vediamo un posto Se riusciamo a trovarlo Ma di chi vada Boh Lo lasciamo andare Tipo Sino lasciamo andare lui E quello è bello Non è andato Boh Qualche stanza segreta Sarà andato Però Non riesco a trovarlo Sicuramente ragazzi Vi giuro Cioè Proviamo un attimo Per un ultimo giù Vediamo un posto Se è tornato Ma le che vada Non lo affrontiamo comunque Ma ci andiamo a fare altri dungeon Va E che cavolo Però se riuscirò mai a salire Lì sopra Magari Si sono abbastanza negato Ripeto Ancora Sui parkour Quindi Non scrivete un lì Sopra è schifo Non so usare Non so usare il parkour Eh si Sono stupido Lo so Lo so Me lo dicono in tanti Eh Non vorrei che qui dietro Ci fosse qualcosa di Come speravo Ragazzi Ah no Qui dietro è quella Senza me Cioè È tutto collegato Ok È di qua quindi In te dovevo collegare Anche dall'altra parte È qua secondo me Vedete Eccolo qua Ok È andato di qui È andato Allora vediamo un po' Non è manco questo Posso colpire Con cosa posso colpirlo Ragazzi Aia Non riesco a colpirlo Con cosa lo ammazzo Su stronzo La mangio solamente Andiamo un po' Fare shard Ah Ha preso fuoco Stronzo Muori Ok Ha finito la fame Aia Ok Ok Teniamo qua In teoria Dovrei prendere Un bel po' Di danno Ok Eh no Va beh Recupera HP Lo stronzo Nell'angolo 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 Aia Quanto sei stronzo Aia Quanto fa male Porca vacca Come lo ammazzo Un titolo del genere Non ho nulla Per uccidere Ah non è che Ho fatto dei sharpness Provo colpire Col piccone In teoria Dovrei farli male Se lo chiudo qui dentro Facciamo questo modo Perfetto Ok Eh mi sembra un altro blocco Ok Ok ragazzi Lo subito Ok ragazzi Rieccomi Allora L'ho bloccato lì Io preferirei a fare questo modo Vediamo un po' Eh mi serviranno delle torce Aia Stronzo di me Stronzo di merda A un po' di danno Li ho fatto Eh no ragazzi Penso dovrò ucciderlo Con la magia Però Oh nell'angolo Nell'angolo Porca vacca Mi uccide Ah Aia 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 Oh Merda Un po' di danno Li l'ho fatto eh Aia Porca caca Si è incastrato Di dentro Lo stronzo Riesco a picchiarlo Non riesco a picchiarlo No Non è scappato È andato Merda Quanto ti odio Stai fermo No 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 Eh si vabbè Ciao ragazzi Non ce la farò mai Ucciderlo Cioè Penso che ho bisogno Di magia Per farlo Quindi Poi lo aspetteremo Dovremmo ucciderlo In futuro Sicuramente Perché Ucciderlo adesso È un po' impossibile Come cosa Quindi Quindi Cercheremo di iniziare La arts magica Che dite Ottima idea Ok Torniamo a casa ragazzi Niente dungeon fine Perché per il momento Non possiamo farlo Ehm Vediamo un po' Sfruttiamoci Tutto le chest Cioè L'inventario Tutte le robe Le chest Tutte queste cose Ok Quindi Vediamo un po' Cosa abbiamo Abbiamo Poi un po' Di lingotti Questo blocco In oro Che trasformeremo In oro puro Perché non ci interessa I blocchi Poi armature Tutte qui sopra Oh guardate Mentre ne abbiamo Adesso Buono Pale e attrezzi Anche questi due In teoria dovrebbero andare qui E il cibo 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 Che in teoria dovrebbe essere Questa parte Ottimo Vediamo un po' Cosa altro abbiamo Ok Le enderpearl Abbiamo considerate Dobbiamo essere qui sotto Mi sembra No dobbiamo essere ragazzi Le enderpearl In drop mob Mi sa Abbiamo anche Il creep earth Il creep earth Che non so bene A cosa serva Però in futuro Ci sarà utile Non so in certo Ok Eh no Questa major orb Probabilmente andrà Da qualche parte Vedremo un po' Ok Qui la legna Si ragazzi Devo smettare un po' Bene tutto Perché se no poi Mi perdo Ok Penso Andrà qui Perché qua è la magia Ok I dischi invece vanno Ne drop Perché sono qua Ok Questo l'ho fatto Perfetto Andiamo all'altro Bam Eh qui c'è un bel po' Di roba Allora questa cosa Ad esempio la bubble gun Della chocolate quest Potrebbe essere buona Se avessi per esempio Dei colpi Chocolate quest Chocolate quest Vediamo un po' Eh abbiamo Queste due Ok Bullet Ah ok Si fanno Ah ok Si fanno in questo modo Se proviamo a ucciderlo con il bullet Ragazzi forse ce la facciamo Eh C'è questo modo Prima di tutto Lasciamo giusto questa armatura Perfetto E le armi qua Perfetto Quindi questa Eh le Le frecce mi serviranno Quindi teniamole un po' Eh Qua ci mettiamo anche questi minerali Perfetto E l'ender pearl L'abbiamo messo in drop mob Però si Perfetto Cibo qua Insieme Allora qua invece drop mob Quante ne ho di Gunpowder Mi sa un bel po' Ovvero troppe devo dire Eh Blocchi li mettiamo qua Stickli Li mettiamo in teoria qui dentro Ok Questa altra abbiamo Ah giusto la spada Figa questa qua Ok tenrò questa bubble gun Speriamo che non si rovina Tipo con l'uso Infatti Facciamoci un po' Di questi Ok Dovrebbero bastare In teoria Vediamo un po' Di lasciare questa roba Anche No questo qua Sopra Ok E la scroll la tengo Perché potrebbe essere utile Per scappare Da Pericoli imminenti Dicevante Ok in questo accesso Mettiamo questa Questa E questa Ah ok Abbiamo anche Le nostre belle scarpine Qua Ok perfetto Come armatura Più o meno Siamo messi bene Forse dovremmo ripararla un po' Però poi vedremo Nel frattempo Spara Ah ok Spara bolle Bellissima ragazzi Vediamo il revolver invece Può craftare il revolver no? Ok si spara Perfetto Vediamo un po' Come va Abbiamo due nuove armi Andiamo a vedere Forse possiamo ucciderlo In questo modo Non penso proprio Però Sapete Anzi no Io direi che Non penso proprio Si possa fare Però va bene Il mentre Poi queste cose Le mettiamo qui dentro Anzi no Queste le teniamo In inventario Perché possono essere utili O no Le mettiamo in inventario Forse la bubble gun La teniamo per Cose utili In futuro Allora Abbiamo detto ragazzi Dobbiamo farci un attimo Una cosa Eh si devo ancora smistare Queste chest Però se non sbaglio Abbiamo iniziato a fare Le cose in ferro Poi ci si va del ferro Mi sa Ad esempio Uno o due Poi è tutto in ferro Ah mi sa L'abbiamo messo in ferro Io direi La cosa migliore da fare A momento E prendermi un po' Di ossidiana Problema Come fare l'ossidiana Terrà l'ossidiana Potrei già farla In qualche modo Non c'è un crafting Dell'ossidiana Vero No Mi servirà un piccone di diamante Quindi nemmeno Prendi un po' Di ossidiana Ok Ci serviranno Due stick veloci Ok Perfetto Anzi no Mi sa che ce l'abbiamo Ragazzi Un piccone di ossidiana Mi sa Qui sopra Eccolo qua Ok Andiamo a prendere un po' Di ossidiana Così possiamo Un po' Migliorare il nostro bel piccone L'ossidiana La possiamo trovare Da queste parti Quindi Aspetta Presumo un attimo Che se prendo Un secchio di acqua Posso farla Più velocemente Ok Un secchio di acqua Andiamo a prendere Dove vogliamo Aia Ah che bel male Mi son fatto Non si è scappato Non si sono fatte nulla Perché abbiamo Un fetter falling No bugia Non ce l'abbiamo Un fetter falling Eccolo voglio di averlo Ragazzi No Peccato Ok Guardate che sono belli Sti albere lì Che ci danno la roba Ok Perfetto Andiamo Qua A tornare Ok Ah qui c'è C'erano ancora i blocchi di oro È giusto Non potevo prendere I blocchi di oro Però c'era la lava Giusto Copperti Ok Qui c'era la lava Perfetto Ok Eccolo ossidiana Perfetto Allora vediamo un po' Se metto l'acqua qua Metto l'acqua perché Vi spiego È pericoloso Scavare senza acqua E quindi non voglio Morire inutilmente Quindi cosa facciamo Recuperiamo un attimo questa roba Facciamo almeno due pezzi di ossidiana Facciamo Sì due pezzi Due pezzi sono più che abbastanza Nel fatto per iniziare E direi che facciamo Facciamo anche una spada In teoria Non con i diamanti Perché così almeno Possiamo pure testare quella Quindi La spada per esempio La possiamo fare Ah per adesso La di ossidiana Nel futuro Vedremo come farla Vediamo un po' Riusciamo a recuperare Questa di ossidiana Ok Dovrebbero bastare Quattro pezzi In teoria In teoria per tutto Ok Perfetto Perfetto Abbiamo preso questo Torniamo Apriamo questo coper E tutto anche Ok Mi sembra anche un bel po' Di alluminio Però l'alluminio A un momento Ce l'ho Mi sa a casa Non scherziamo Sta cosa Perché sono qui io Ah perché qui Era il dungeon Giusto Mentre la dungeon Dall'altra parte Mi sembra Ah no 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 Questa è la casa vecchia Ok Allora Dicevamo ragazzi Andiamo qua un attimo Dovremmo avere due pattern Uno e due pattern Perfetto Dovremmo poter utilizzare L'ossidiana Ecco si Possiamo fare l'ossidiana Però mi dice Che non posso farlo Wooden Stone Cactus Forse dovrei Tipo Metterla nella fornace Non so Dicevamente Vediamo un po' vedere Si può mettere nella fornace Perché Questa volta La cambia abbastanza Quindi ok Non so In teoria cuoce Ok Dovrebbe esserci anche un po' di lava Non so se c'è Perché non la fa vedere Si c'è Perché se no Non cuoceva E In teoria Prima di fare la lava Devo prendermi un bel po' Di lingotti di oro Perché mi servono Almeno due lingotti Per fare l'ultimo cast Ok Mi servirà anche Un pezzettino D D D D D Vediamo dove sta Un pezzettino Comunque uno stick Va benissimo E un pattern di questo Perché devo farmi questo Qua E poi in teoria Mi sa che ce l'ho Ok Si può fare così Vedete C'è scritto anche Ossidian Ah Forse questo Ah Posso fare anche questo Ah ok Ok ragazzi Scherzavo Scherzavo Si può fare Vedete Soltanto Mi sa lo stick Non si può fare Ossidiana Uno e due Le teniamo Gli ultimi due Le mettiamo a cuocere Non si sa mai Ma no Penso che non servano Nemmeno cotte Vabbè Ma vediamo Allora vediamo qua Ossidiana No non me lo fa fare Ma Pure è strano Perché in teoria Dovrebbe farmelo fare Vabbè Cosa strana In effetti Vabbè Non ci perdiamo Nemmeno tempo Sicuramente Ok Allora vedete Un attimo L'ossidiana Che sta cuocendo Adesso In teoria Potremmo Metterci questo E far colare Ok funziona Vedete Ora mi fa L'ossidiana Bam E ci servirà Anche il pickaxe Ok La restante parte Che è rimasta Adesso dobbiamo Metterla tipo Per altro Ok I cast Ora li mettiamo A posto In teoria Potremmo metterli Anche qua Per questo Ok Perfetto E aspettiamo Un attimo Fisco questi cast E poi dobbiamo Metterci questo Wooden Binding Ok Dovrei un attimo Far colare Ma loro Quindi selezioniamo Loro Facciamo colare Loro Ok Nuovo pattern E facciamo colare Finalmente l'ossidiana Sopra Ottimo Ossidiana Perfetto Ok Quindi in teoria Possiamo O migliorare Quel piccone O metterci Io direi Miglioramolo Perché comunque È abbastanza Bello E potente Quindi andiamo Per esempio Nella toolstation Cioè in questo modo In questo Bam Beh Durabilità meno What Perché diminuisce La durabilità Ragazzi Ah perché Durabilità È minore L'ossidiana Però Può spaccare Tutto Può spaccare Ok Vai Adesso Iniziamo così Ma è strano Che Diminisca così Tanto la durabilità Sinceramente Ammoning speed Migliore Però Bah Andiamo così Strano Tipo 36 Di durabilità Really No No È bugato È bugato Sì È bugato Ragazzi Abbiamo Reinforze Di 5 Addirittura Oh Ah Mi sa Forse Che tipo Ho capito Cosa intende Tipo Allora Io È vero che dura poco Ma il fatto che c'è Reinforze 5 Mi permette Di tipo Con un colpo Spaccare Decine e decine Di blocchi Bam Mi piace Mi piace Ok Un blocco è rimasto Non è nato Eccolo qua Ok Solito blocco Che ogni tanto Mi perdo In giro Oh Opla Ok Eh sì Ciao Aspetto 1 2 3 1 E 2 Ok ragazzi Il nostro bel piccone Nuovo È pronto Adesso possiamo Prendereci Perfino il diamante Quindi io tornerei A prendere giusto Quella cosa nel dungeon In tornare In pausa Quello che è insomma Nel fatto un po' la campana Mi suona E mi dice che L'episodio è anche finito Quindi Andiamo a prendere giusto L'ultima cosa Nel fatto un po' Abbiamo perso da capo Il tizio Ah no Eccolo qua Che è tornato Allora Che dico Che l'ho perso Ritorna Lui Molto a caso Ok Perfetto Vedete che ci vuole Un po' di tempo Però per recuperare In effetti La durabilità Diamante Bam Smeraldo No questo è oro Bam E qui abbiamo I lapislazzoli Ok perfetto Vedete la luce Recupera HP velocemente Perfetto ragazzi Della risposta di tutto Ci vediamo nel prossimo episodio E ciao ciao ragazzi Se vi piacciono Se vi è piaciuto questo episodio Vi ricordo che abbiamo Anche una pagina Facebook Quindi potete sapere Quando uscirà un video O avere altre informazioni Di lì E se volete mettete anche Un bel like Per questo episodio Vi è piaciuto Quindi ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao ragazzi Ehi tu Sì Dico proprio te Sei nuovo da queste parti Sì Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare video di Minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno di video di gameplay Quindi Che aspetti Vi non so farlo più da vicino Persone o animali O bambini Non sono stati sfruttati Per la realizzazione di questo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti